Non chiedete cosa il vostro paese può fare per voi, ma cosa voi potete fare per il vostro paese. Sentenziava il 20 gennaio 1961 John Fitzgerald Kennedy, il più carismatico presidente americano di tutti i tempi. La sua icona persiste nelle foto del fotografo Phil Stern, che adesso espone nella sua galleria di Los Angeles gli scatti del mondo in cui Kennedy ha vissuto la sua corte e i suoi amici. Da queste immagini sgorga tutta intera un'America che non c'è più, ma che ha fatto la storia. Le foto che ho scattato per l'elezione di Kennedy, per il galà, per la parata, restano come qualcosa che ho fatto molto bene, perché sono finite sulle riviste Life, su Luke, e poi hanno fatto il giro del mondo. Stern aveva immortalato altri grandi della sua epoca, James Dean, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Benny Godman. Ha 91 anni e fiero della sua carriera. Sono consapevole che grandi eventi sono corsi durante la mia vita, cose coinvolgenti direi, la seconda guerra mondiale, Hollywood, l'età del jazz, molte altre cose. Alcune restano profondamente nella mia memoria, altre sono distanti, ma per tutte sono consapevole che la mia vita è stata densa di eventi capitali. Le fotografie che evocano il cinquantesimo anniversario dall'elezione di John Kennedy sono ora al The Phil Stern Gallery di Los Angeles.